Sssh, facciamogli uno scherzo! Sveglia ragazzi, ci hanno preso i Cereali Nesquik! I Cereali Nesquik! Eccoli! Dobbiamo riprendersi! Andiamo! Gli altri Cereali Nesquik sono ancora più buoni! Cereali Nesquik! E tu, ce li hai? Subito, in regalo i mitici Cavalieri Lego! Ce n'è uno in ogni confezione dei Cereali Nestlé! E ora vediamo chi è il più forte! E sconfiggi il malepico Vladek! Cereali Nesquik!